Mi è stato offerto un videoregalo da un amico regista, artista, musicista, che è Alberto Nacci, qui a Bergamo, è solo nel suo studio, e lui mi ha fatto questa proposta, un videoregalo che lui mi dà, che dà ad ogni artista che intervista alla fine di un dialogo. L'artista può raccontare una microstoria, può mandare un messaggio ai suoi amici, può dire qualsiasi cosa, in libertà assoluta. Mi sembra un'idea carina, io ne approfitto allora. È uscito questo piccolo libro, edito dalla casa editrice Mimesis, dal titolo Matrici, sottotitolo L'incertezza del vero, libro che appartiene a una collana fotografica dedicata a molti autori italiani e stranieri, in cui ci sono le fotografie di ogni autore, insomma, praticamente. L'autore si racconta e fa vedere le proprie foto a secondo dei criteri di scelta, ma ci sono anche saggi, ci sono vari livelli in questa collana, molto bella devo dire. Beh, la storia è questa, che mi viene voglia di raccontare brevemente, che ne vale la pena probabilmente, soprattutto per me che l'ho vissuta, come nasce questo libro, questo piccolo libro, che poi sono 200 pagine, il formato è piccolo, però in sostanza nasce da una richiesta che prevedeva una serie di mie fotografie con una narrazione libera, al che praticamente ho avuto un'idea un po' strana, che è quella di disegnare per ogni pagina, schizzare l'immagine che avevo in mente di pubblicare. Quindi ho tante immagini, perché avevo compiuto 80 anni da poco, e allora avevo pensato di fare questa cosa. E avevo fatto un menabò con degli schizzi, praticamente ogni pagina, un disegnino, e ricavato una fotografia, invece di mettere le foto, avevo fatto gli schizzi, i disegni, con la biro. Il fatto sta che alla fine, quando sono venuti i redattori, la redattrice e Stefano Raimondi, il curatore che poi ha scritto l'introduzione, mi dicevo prima, hanno deciso di pubblicare la proposta. Ma che bello, pubblichiamo i disegni invece delle foto. Al che? Io sono caduto dalle nuve, dico ma come? Se è un libro di fotografia come facciamo a pubblicare disegni? Io l'ho fatto per il mio piacere. Insomma, per farla breve, lei, Francesca Adamo si chiama, la redattrice, molto brava devo dire, ha avuto quest'idea. Dice, no, no, ma dice, va di moda il QR code, mettiamo il QR code alla fine del libro, e chi vuole vedere le foto con il cellulare vede le foto. E dico, ah, bene, ottima idea. E' partito sto libro, con i disegni, in copertina c'è una fotografia, ma soprattutto mi interessava promuovere questa nascita di un lavoro ai fini di poter vendere anche il libro tra gli amici, per quello che il regalo io lo sfrutto, siamo sotto Natale, lo sfrutto anche in questo senso. E quindi il libro è stato pubblicato, è in vendita, la storia che poi, che vi ho raccontato brevemente, poi si è arricchita di vari elementi, no, di la presentazione, contatti che abbiamo avuto. Insomma, è stata un'idea che ho apprezzato molto, non da parte mia questa volta, ma da parte loro. Io ho solo giocato con i disegni, dato che mi piace disegnare, ho sempre disegnato, oltre che a fare le fotografie, e quindi questo gioco, diciamo, si è risolto in chiave positiva, perché poi ho dovuto scrivere 80, un'ottantina di testi che raccontavano memorie, storie, vicende collegate alle immagini, per cui mi è scattato un altro meccanismo di lavoro, per cui mi sono stato impegnato molti mesi a preparare ciò che io non avevo previsto, in sostanza. Quindi la scrittura, quindi ho disegnato, ho ricordato le fotografie, ho scritto pure con una certa difficoltà, perché io non sono uno scrittore, ma ce l'ho messa tutta, con l'aiuto anche dei miei collaboratori, di mia moglie, per esempio, che è brava Maria Grazia. E insomma, questa è stata un po' l'avventura personale che voglio comunicarvi in funzione di matrici, l'incertezza del vero. Grazie dell'attenzione. Grazie. Grazie.